Un buongiorno a tutti, benvenuti alla Fiera del Condominio Sostenibile, io sono Cristiano Vassanelli e vi terrò compagnia per questa prima parte in collaborazione con Orman, questo workshop dedicato all'acustica applicata ai portuncini d'ingresso. A me spetta l'onere della parte, chiamiamola così, scientifico barra legislativa, barra l'esperienza che leggete nella prima slide, poi lascerò parola al signor Raimondo Frau che è il direttore tecnico per quanto riguarda Orman che ci presenterà l'azienda e poi approfondirà anche altre tematiche. Visto che il tempo è sempre a tiranno partiamo subito e concedetemi prima di iniziare qualsiasi ulteriore valutazione di fare un minimo cenno teorico a quello che è l'acustica in senso generale e poi andremo a connotarla nell'ambito degli edifici. Per quanto riguarda l'acustica noi in buona sostanza parliamo di rumori, rumore che effettivamente è una parola che non viene usata a livello fisico in quanto vengono definiti tutti i suoni. Quindi un campo sonoro si instaura in una determinata condizione quando avvengono due fenomeni fisici tutti e due nel medesimo istante. Ci deve essere un corpo che va in vibrazione e ci deve essere un mezzo elastico che trasferisce queste variazioni di pressione dovute alla vibrazione del corpo attraverso questo mezzo per arrivare poi al nostro apparato uditivo. In buona sostanza due esempi tanto per essere chiaro. Finché sto parlando le mie corde vocali vibrano nel cavo orale. Quindi il corpo che sta vibrando in questo caso sono le mie corde vocali. L'aria contenuta in questa sala trasferisce a voi il segnale delle variazioni di pressione dovute al mio tipo di linguaggio. Poi il nostro cervello attraverso il timpano preleva tra virgolette le informazioni necessarie e le trasforma in parole che tutti riusciamo a percepire. Se io dovessi battere il pezzo di plessica che c'è qui sotto questa volta il corpo che è andato in vibrazione è questo pezzo di plastica. L'aria ripeto contenuta in questa sala ha modificato il suo stato dalla quiete cominciando a vibrare ha creato delle onde di compressione e depressione che hanno fatto sentire a noi il toc famoso che ho appena fatto con le dita. Quindi ribadendo e chiudendo un campo sonoro si staura quando ci sono due fenomeni. Un corpo che va in vibrazione attraverso sollecitazioni esterne ed un mezzo elastico che trasferisce queste vibrazioni. Il mezzo elastico può essere l'aria come in questo caso dove noi conosciamo la velocità di propagazione dell'aria e il suono ci impiega 343 metri, un secondo per fare 343 metri ma ci sono anche altri mezzi e passiamo ai liquidi ad esempio nell'acqua l'ordine di grandezza della velocità di vibrazione e di propagazione del suono è decisamente superiore arriviamo a sfiorare 1500 metri al secondo come velocità per poi arrivare ai materiali solidi quelli da costruzione tanto per darvi un'idea nell'atterizio nel calcestruzzo o nell'acciaio parliamo di 3 4 5 chilometri al secondo. Chiaramente queste conoscenze di base ci danno modo di valutare quale tipo di strada percorrere per andare a limitare la propagazione sonora nel caso in cui io mi dovessi rapportare ad una problematica di rumore dovuta all'aria o ad una problematica di rumore dovuta ad una sollecitazione diretta di un elemento strutturale esempio classico il mio vicino che sta camminando sento i suoi passi oppure il mio vicino che attacca un chiodo il muro per appenderci un quadro sento le martellate del muro sono fenomeni ripeto differenti come origine la percezione che abbiamo noi umani è sempre la stessa c'è sempre attraverso l'apparato uditivo noi percepiamo qualsiasi tipologia di suono ma entrando ora nel merito del rumore degli edifici in ambito di acustica applicata all'edilizia noi suddividiamo i tipi di rumore in tre grandi famiglie definiamo rumori aerei rumori che vengono generati nell'aria e propagati dalla stessa fino al nostro apparato uditivo chiaramente il parlato la radio la televisione il suono di determinati strumenti è un rumore definito di tipo aereo quindi quelli li consideriamo in una certa maniera e andremo a valutare le tecniche di limitazione sonora attraverso questo tipologia di problema diversi e peggiori mi viene da dire sotto certi aspetti sono invece i secondi quelli dovuti a percussione o calpestio quindi quando una vibrazione è entrata all'interno di un elemento strutturale come vi dicevo a causa ad esempio del camminamento delle persone beh la velocità è di un ordine di grandezza superiore lì si dovranno mettere in campo diverse tipologie tecniche costruttive tipologia di intervento affinché vengano limitate le opportunità di vibrazione che possa così amplificarsi e portarsi in tutto l'edificio gli ultimi l'ultima categoria definiti rumori degli impianti invece hanno una commistione delle due problematiche appena descritte c'è una componente di rumore definita aerea è dovuta al fatto che l'acqua nel suo passaggio attraverso questi condotti e queste tubazioni ha un suo rumore è un esempio classico se ci mettiamo di fianco a un ruscello sentiamo il rumore del movimento dell'acqua in più c'è la parte diciamo vibratoria o meglio tutto quello che passa attraverso la tubazione magari cadendo da cinque piani comincia ad avere una determinata peso di energia e quando tocca le pareti di queste di queste conduttore le mette in vibrazione lì la parte vibratoria la dovremo limitare in maniera differente quindi facendo degli interventi atti a troncare diciamo tagliare l'opportunità che la vibrazione da questa tubazione possa poi essere condotta all'edificio e da lì venire a percepirsi da praticamente tutte le parti a causa ripeto della velocità enorme con cui queste vibrazioni percorrono gli elementi solidi tanto per darvi un metro facile da ricordare per determinare quanto possa essere veloce la vibrazione all'interno di un materiale solido dipende fondamentalmente da due fattori dipende dall'elasticità dell'elemento e dalla sua massa o meglio dalla sua densità quindi se dovessimo valutare qual è forse il materiale peggiore come velocità di vibrazione potrei dirvi il granito il granito a sei chilometri al secondo poi metteremo sotto l'acciaio siamo a 5,2 perché l'acciaio è denso ed è anche molto elastico se dovessi considerare il più denso in assoluto mi verrebbe in mente il piombo ma il piombo non ha una grande velocità di vibrazione perché perché purtroppo o meglio per fortuna in questo caso è anelastico viene a deformarsi rimane deformato quindi il piombo ad esempio a 1,2 chilometri al secondo contro l'acciaio ripeto che ne ha 5,2 per quanto riguarda la tipologia di propagazione di questo tipo di rumore appunto per quanto si è appena descritto un rumore aereo solitamente a meno che uno non abbia un impianto a Dolby Surrano da casa da stadio di concerto a San Siro dovrebbe disturbare chi ci abita vicino quindi limitatamente distante da noi di solito sopra sotto o di fianco cosa differente invece è per quanto riguarda sia il rumore della percussione che per quanto riguarda il rumore degli impianti che ahimè viaggiando attraverso la struttura dell'edilizia e quindi comunque con velocità decisamente superiori riescono a disturbare anche a grande distanza dall'origine della sorgente della problematica vibratoria. Per quanto riguarda quello che abbiamo ad oggi come panorama legislativo a livello nazionale che gestisce tra virgolette e determina i limiti, gli indici di prestazione dei nostri edifici abbiamo un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di PCM 51297 intitolato appunto determinazione dei requisiti acutici passivi degli edifici. È un decreto che ormai ai suoi anni ne ha già compiuto 23, stiamo da anni aspettando che venga mutuato qualcosa di nuovo, abbiamo fatto, io ho avuto modo anche di essere presente alle riunioni che si tenevano presso l'Uni per cercare di mettere una normativa che fosse di sostegno a questo decreto, siamo rimasti con l'ultima bozza del nuovo decreto legislativo al settembre del 2010, ad oggi non si è ancora più purtroppo mosso nulla. Quindi che sia chiaro ancora oggi su tutto il territorio nazionale vige ed è cogente il DPCM 5 dicembre 1997. DPCM che è entrato in vigore come vedete nell'immagine il 20 febbraio del 1998 di conseguenza ha compiuto già 23 anni, ma molto più importante è quello che vedete con quella scritta diciamo verde acqua e cioè cosa ci sta chiedendo questo decreto. Qua bisogna essere molto chiari e tranchant come dicono i francesi, rispettare i limiti di legge che poi vedremo velocemente non è assolutamente conforto acustico, lo scrive direttamente il decreto dichiarando che lui richiede minimi standard qualitativi, non ha mai menzionato grande livello di comfort. Quindi le ripeto, il rispetto di legge comporta di essere tra virgolette a posto con quelle che sono le regole tra virgolette determinate dallo Stato nazionale, ma sicuramente distante dalle problematiche se una persona soffre particolarmente il tema rumore. Quindi avere un solaio isolato secondo decreto non è sufficiente per avere il silenzio in casa, anzi è molto distante. Avere una tubazione secondo decreto vuol dire che io sento distintamente il rumore dello sciacone del mio vicino. Chiaramente non sto urlando in casa, c'è silenzio, ma io lo percepisco. Quindi questo è quello che ad oggi ha messo come limite minimo, ripeto standard, lo Stato nazionale. La speranza di tutti noi è che si possa fare un upgrade volendo parlare inglese o un saltino avanti parlando italiano, cercando di andare a ritoccare determinati requisiti che a mio avviso, ma non solo mio, sono un po' troppo blandi se vogliamo cominciare ad avvicinare il vero benessere all'interno delle nostre abitazioni, magari lasciandone stare altri che già oggi invece stanno creando più di qualche turbativa e ora vediamo proprio questi requisiti per capire la situazione. Innanzitutto quando e a chi si applica? Beh sul quando ormai è abbastanza chiaro, tutto ciò che è andato in concessione dell'inizio a partire dal 21 febbraio 98 ad oggi è in obbligo di valutazione dal punto di vista acustico e di rispetto a quelle che sono le indicazioni del decreto. Poi per quanto riguarda oggi possiamo toccare, oltre al nuovo che chiaramente deve rispettare tutti i limiti indicate per legge, per quanto riguarda il mondo delle ristrutturazioni, sicuramente un mercato abbastanza fiorente in questi ultimi anni, ci sono purtroppo situazioni differenti o meglio il Ministro non ha mai chiarito in maniera definitiva e assoluta se o meno bisogna mettere mano a quando andiamo a ristrutturare. Ci sono svariate richieste di vari ordini professionali nazionali riferite al Ministero dell'Ambiente che gestiva la situazione chiedendo in che maniera dobbiamo muoverci con le ristrutturazioni. Purtroppo le risposte ai quesiti che ha fatto il Ministero sono state diverse negli anni, io ne ho una certa collezione e vi potrei dire che ogni 10-11 anni cambiano un po' idea in base a quello che succede sul mercato. In buona sostanza toccando un po' di regioni che a me capita spesso per lavoro facendo questo appunto come professione, vi posso dire che se una ristrutturazione è integrale vanno rispettati tutti i requisiti indicati per legge. Se invece tocchiamo l'ambito delle ristrutturazioni parziali io mi muovo in questa maniera, in base agli elementi indicati nella concessione edilizia che andremo a toccare, se questo elemento è un elemento che definiamo acusticamente sensibile lo andremo a mettere nella condizione di rispetto del DPCM, se questo elemento non è acusticamente sensibile a questo punto non devo farci assolutamente nulla. Un altro modo di vedere la cosa di qualche comune che ho visto in questi anni è di dire guarda tu tocca pure quell'elemento edilizio l'importante è che non lo peggiori. Ecco questa è un'ulteriore strada, il problema è dimostrarne il miglioramento perché se io non ho fatto una valutazione strumentale prima e una dopo diventa difficile andare a determinare se effettivamente miglioramento migliorato o meno. Vi faccio un esempio classico, mettiamo a mano la ristrutturazione di un vecchio edificio dei primi del Novecento con un controsoffitto incannucciato e un po' d'intonaco. Vogliono vedere i travi a vista, tolgono il controsoffitto e fanno degli interventi di sopra. È meglio o è peggio di prima? E se nessuno ha fatto dei collaudi prima facciamo fatica, entriamo in un ginepraio di considerazioni diciamo così tecniche ma teoriche dove diventa difficile andare a testimoniare effettivamente il miglioramento. Ultimo caso restauro. Nel caso in cui in questi restauri ci sia anche l'ingresso della soprintendenza, in questi casi la soprintendenza va oltre quelle che sono le leggi nazionali, quindi ha la possibilità e la capacità legislativa di andare a togliere tra virgolette quelli che sono le indicazioni normative per quanto riguarda il comparto dell'acustica. Lo può fare su tutte le leggi tranne che per quanto riguarda la sicurezza. Quindi solitamente in questi casi il progettista, che di solito è un architetto anche con buona sensibilità nell'ambito del restauro conservativo, fa una relazione iniziale che invia la soprintendenza, in quella relazione se ha competenze e lo fa da solo se no chiama uno come me che gli da una mano, cerca di andare ad indicare quelle che sono le lavorazioni che vorrebbero portare a termine anche per adeguarsi dal punto di vista dei requisiti acustici. Poi risponderà la soprintendenza cassando per parti quello che riterrà opportuno e mantenendo quello che riterrà opportuno. Lì andremo avanti come ci ha indicato la soprintendenza ma se non altro avremo una relazione iniziale dove abbiamo dimostrato la volontà e la possibilità di mettere mano a tutto. Chiaro è che se abbiamo scritto che vogliamo fare un controsoffitto e sopra abbiamo un bellissimo soffitto in legno affrescato del 1903, probabilmente la soprintendenza non ce lo farà fare. Di conseguenza quello è un intervento che ahimè rimarrà da fare e di conseguenza il comfort acutico in quel caso non ci sarà e la condizione sarà quella che prima di tutto conserviamo la parte architettonica o artistica dell'edificio e poi vengono gli altri requisiti. Requisiti appunto che il legislatore ha suddiviso per categorie di destinazione d'uso, ha preso in esame tutte le categorie e ha mantenuto fede a tutte queste dando dei requisiti tranne a tre categorie specifiche. Quindi non c'è applicabilità del DPCM 5 dicembre 97 per quanto riguarda edifici industriali, edifici artigianali ed edifici agricoli. Tutto il resto è stato mappato e censito dando delle lettere dell'alfabeto alle varie categorie. In questa immagine le vedete belle raggruppate. Per quanto riguarda ad esempio la categoria A che sarebbero le residenze che è uguale alla C che sarebbero gli alberghi abbiamo dei limiti che adesso descriviamo e poi via via tutte le altre. La B saranno uffici palazzini adibiti ad uso ufficio, per quanto riguarda la C l'abbiamo già detto sono alberghi, poi abbiamo la D che sono le case di cura, ospedali, cliniche e quant'altro. La E sono tutti gli edifici scolastici di qualsiasi tipologia dall'asilo all'università della terza età. Per finire con F e G dove F sono attività ricreative e di culto quindi anche una chiesa fatta domani dovrà rispettare i requisiti o che ne so il circolo ricreativo dei pensionati che si trovano per ballare il tango al pomeriggio alle 4 anche quello dovrà rispondere ai requisiti. Per finire con la G che prende e abbraccia tutto ciò che è attività commerciali, quindi qualunque negozio deve comunque rispettare le indicazioni del decreto. Indicazioni che come vedete in questa immagine sono 5 requisiti specifici, 5 indici prestazionali che mi devono dare modo di conoscere o meno il passaggio per quanto riguarda il rispetto di legge. La prima colonna, quell'R'1W viene chiamato come indice di potere fono isolante apparente che deve fornire ogni elemento di separazione tra distinte unità abitative e o produttive. Tradotto, ogni parete divisoria, ogni solaio che divide me dalla proprietà vicina dovrà fornire una prestazione di isolamento dai rumori tipo aereo, se prendiamo la categoria A, di almeno 50 decibel, cioè deve fermare almeno 50 decibel in modo tale che a casa mia arrivi un livello sonoro che non sia troppo disturbante. Seconda colonna, quella che ho evidenziato perché oggi toccheremo in buona sostanza solamente quella, quel D2MNTVW viene invece chiamato indice di isolamento di facciata. È la medesima richiesta, quindi sempre un valore di isolamento minimo per quanto riguarda in questo caso un elemento di separazione verso l'esterno, quindi proteggiamo la nostra abitazione dai rumori provenienti dall'esterno. Nel caso, ripeto, delle categorie A e C, residenziali e alberghi, il valore indicato per legge è di 40 decibel. Vuol dire che, ripeto, la mia facciata dovrà proteggermi almeno per 40 decibel, in modo tale, ripeto, che non ci sia troppo rumore esterno. Ecco, questo è il caso dove spesso il rispetto di legge non mi consente il comfort, perché questi 40 decibel in una condizione di alta montagna, che ne so, ho una villetta dove sento le aquile e il belare delle pecore, probabilmente questo 40 è fin troppo elevato come comfort perché non ho grande problematica di, tra virgolette, inquinamento costico esterno. In caso dove, invece, come mi è successo qualche volta nella mia professione, mi trovassi a 12 metri da un passaggio ferroviario, beh, quel 40 di legge non mi dà nessun tipo di comfort, perché quando sfreccia il treno, che fa 90-95 decibel, io a casa mia sento 40-45 decibel. Giusto per darvi un peso, 40-45 decibel è un rumore abbastanza facilmente percepibile. Uno che parla normalmente ne fa circa 60-62, quindi è come avere qualcuno che ti sta un po' parlando nell'orecchio. In quei casi, chiaramente, bisogna che il consulente consigli, suggerisca all'impresa di alzare, nonostante rispetto di legge, il livello del comfort, perché alla fine costruiamo per vendere. E se io poi ho una fascia di appartamenti esposti alla sorgente più rumorosa, che si rispettano la legge, ma nessuno vuole, perché purtroppo sentono il treno, beh, non è un vantaggio per nessuno. Andiamo avanti. Le seconde tre colonne, quindi quelle che vedete indicate con l'indice L, sono invece livelli massimi di disturbo consentito. Quindi, diversamente dalle prime due, che sono indici prestazionali di elementi strutturali, le secondo tre sono proprio come se l'oggetto del contendere sia il mio orecchio. Quindi quelli saranno valori massimi di disturbo. Il terzo è riferito al rumore di calpestio dei solai, che si prova con una tecnica specifica, con un macchinario che simula il camminamento in maniera decisamente robusta, e il limite massimo, ad esempio, per la residenza è di 63. Ultime due colonne, invece, per quanto riguarda il mondo degli impianti tecnologici. LS massimo è riferito come indice massimo di disturbo consentito agli impianti a funzionamento discontinuo, quindi classicamente lo scarico, la doccia, la rubinetteria, piuttosto che l'ascensore, la pompa di calore e altre cose. L'ultimo, LA equivalente, invece, è un limite riferito agli impianti a funzionamento continuo. Per quanto riguarda il comparto edilizio, ad oggi abbiamo forse solo la ventilazione meccanica controllata come impianto continuativo. Fino a dieci anni fa non c'era praticamente nulla. Se invece ci spostiamo, andiamo in ambito scolastico, spedaliero o addirittura di alberghi, spesso e volentieri c'è un impianto aerolico che è deputato a produrre, sia caldo che freddo, e di conseguenza ha un funzionamento continuato nell'anno. Beh, in quel caso, quegli impianti vanno riferiti a quella tabella. Se vedete gli indici per quanto riguarda gli impianti a funzionamento discontinuo, il massimo ammesso è 35 decibel. Per quanto riguarda quelli a funzionamento discontinuo, il massimo è addirittura più basso, 25 decibel. Ecco, 25 decibel è un valore molto basso di rumore. Io finché dormo respirando, senza russare, faccio circa 20-22 decibel a un metro di distanza. Cioè, siamo vicini a un rumore che è quasi impercepibile. Se abbiamo un po' di traffico esterno, questi rumori verrebbero comunque coperti. Se pensiamo al ventilcovettore o allo split del condizionatore che abbiamo dentro la nostra camera da letto, quello più o meno fa 35 decibel, quindi siamo ancora molto più bassi. Quindi, quei limiti, per dire, sono limiti che io non toccherei dovessi mettere mano al nuovo decreto. Il solaio, invece, ad esempio, avere un 63 al calpestio è rumore bello e buono. Ho spesso fatto studi anche in confronto con altre legislazioni europee. Vi do un limite di paragone. In Italia chiediamo 63. Siamo i penultimi d'Europa, peggio di noi solo il Portogallo e la Spagna, che addirittura chiedono 68. L'Austria chiede 40. Ecco, 40 è un livello di comfort al calpestio dove sopra fanno una festa da ballo, tu sotto non te ne accorgi. 63, invece, sei dentro la festa da ballo, anche se non sei stato invitato, più o meno in buona sostanza. Concentriamoci comunque adesso sulla parte della facciata. Quindi ipotizziamo di voler puntare il minimo di 40, che come vedete è proprio il minimo richiesto per legge, per quanto riguarda residenze d'alberghi. Ora qui ho messo un po' i nomi che ho detto. L'approfondimento relativamente al mondo portoncino, cioè a questo serramento verso l'esterno, è quello che vedete in queste immagini. Se il portoncino delimita uno spazio chiuso verso l'esterno, quindi siamo nella palazzina monofamiliare, bifamiliare, quadrifamiliare, dove comunque il portoncino mi separa dall'esterno, lì va valutato secondo le indicazioni del decreto e farà parte di quella porzione di facciata che studieremo e andremo a determinare la minima capacità isolante del portoncino. C'è anche una finestra? Beh, metteremo anche la finestra. Tutto quello che ci starà in quella porzione di facciata, il portoncino compreso, dovrà essere valutato e determinata la sua capacità di isolamento. Se invece il portoncino delimita una chiusura verso il vano scale, verso un vano comune, siamo all'interno di un condominio o di un'altra struttura, a quel punto non abbiamo più necessità del rispetto di legge perché non è più verso l'esterno, ma è comunque un ambiente circoscritto. Quindi villette e quant'altro dove il portoncino va verso l'esterno, l'ambiente, va fatta la valutazione e diventa dirimente per quanto riguarda il rispetto di legge. Portoncino all'interno del condominio non c'è più un limite di legge, ma questo non vuol dire che ci sia un limite, diciamo così, di confort da rispettare. E infatti il caso che voglio portarvi a presentare oggi è proprio riferito ad un portoncino blindato di ingresso di un condominio che ahimè ha creato turbativa a tutti gli abitanti del condominio perché purtroppo nonostante l'impresario avesse voluto portare avanti una buona qualità di costruzione cercando tante soluzioni interessanti, anche sul portoncino ahimè quella che era la sua attesa e soprattutto quella dei suoi clienti che hanno poi comprato gli appartamenti è stata purtroppo disattesa creando il fastidio di più appartamenti, di più proprietari di appartamenti che si sono fatti presenti con l'impresario dicendo guarda che qua non funziona, io ogni volta che passa uno dalle scale lo sento, non mi piace, mi dà fastidio abbiamo speso una fortuna per comprare questi bellissimi appartamenti, vorremmo anche quel minimo di comfort. Spinto da questo mi ha contattato e mi ha chiesto di procedere con un'attività di misura strumentale per determinare la capacità di isolamento di questi portoncini di ingresso, non tanto per andare a fare cause o per andare a riferirsi al dpcm in quanto ripeto non avrebbe territorio fertile in questo caso però attenzione, lui ha comprato una cosa che aveva determinate qualità indicate sulla scheda ed ha avuto questa cosa che non ha rispettato quanto indicato per scheda quindi qua c'è un obbligo tra virgolette contrattuale più che una problematica amministrativa di rispetto di legge e questo è il punto dove lui voleva purtroppo e penso che voglia ancora procedere per valutare cosa si può fare. Metodologia di indagine, non è stato semplice perché ripeto non essendo una cosa normata o meglio non essendoci un riferimento legislativo per prove all'interno dell'edificio non c'è neanche una normativa che mi consenta di andare a mettere in pratica una metodologia di indagine quindi mi sono tra virgolette inventato io un po' il metodo cercando chiaramente di mutuare quanto già conoscevo in questo caso mi sono messo a circa due metri dal portoncino di ingresso con una fonte sonora dove il rumore che viene messo è un rumore standard in modo tale che questo sia riproducibile n volte in tutto il planisfero si chiama rumore bianco, vuol dire che ha la stessa intensità sonora su tutte le frequenze che tocca in questa maniera ho cercato di simulare un rumore costante e da quello poi determinare cosa succedeva a questo portoncino per quanto riguarda invece la misura con lo strumento che si chiama fonometro ho cercato di fare delle scansioni manuali cercando di suddividere questi portoncini in aree in una matrice chiamiamola così e andare proprio in vicinanza del portoncino proprio a pochissima distanza del portoncino per simulare quella che è la condizione prima su un lato esterno del portoncino dove c'era la sorgente sonora poi nel lato interno del portoncino da lì l'idea era per differenza di questi due valori che ho ottenuto sperimentalmente misurando mi trovo frequenza per frequenza il comportamento del portoncino e così ho fatto questo è il caso dove vedete il pc acceso sotto c'è questa cassa è una sorgente unidirezionale in acustica usiamo due tipi di sorgenti sonore una unidirezionale come quella che vedete nell'immagine cioè che spara dritto davanti a sé con una minima angolazione ma stiamo parlando di 40-30-40 gradi e poi invece abbiamo un dodecaedro cioè una palla con 12 facce che è quella che viene chiamata sorgente omnidirezionale e quella che viene usata invece per esempio per fare il collaudi del rumore all'interno degli edifici tra due appartamenti quando misuriamo il solaio o la parete in quanto dobbiamo saturare completamente l'ambiente quello che vedete invece davanti alla porta nell'immagine di destra è il fonometro posizionato nel centro della porta per iniziare la prima misura come vi dicevo eccolo qui ho suddiviso in buona sostanza quel portoncino in vari punti A centrale, B sopra, C sotto, di destra ed E sinistra e poi sono passato ad un ulteriore punto all'interno dell'appartamento che lamentava il fastidio, il punto F sempre in zona centrale però spostato di 80 cm circa un metro ipotizziamo dalla porta anche per valutare che tipo di valore ho a circa un metro da quella porta e capire eventualmente il fastidio di chi passa davanti alla porta e poi ho cominciato questa scansione manuale mantenendo sempre in funzione della sorgente sonora ad un volume sufficiente che mi consentisse di fare una corretta valutazione anche dal punto di vista metrologico cioè la sorgente deve avere un volume tale per consentirmi di misurare nel centro tra virgolette della mia zona di misura e non andare nel fondo scala o molto basso in quanto lì avremo un errore molto più elevato finita queste sessioni di misura sia dall'esterno e poi rifatte, riflesse anche all'interno eccole qui nei vari punti indicati A, B, C, D, E ed F quella centro stanza il tutto è stato buttato in un enorme tabellone mutuato dal mio strumento logicamente da cui ho scaricato i dati che mi dà per tutti i punti e per tutte le frequenze che interessano l'ambito di acustica applicata all'edilizia faccio un inciso su questo come vedete le frequenze interessanti sono da 100 Hz basse frequenze arrivare al massimo a 3.150 Hz in realtà le frequenze sono molto di più partono da zero e potremmo andare a 20.000 Hz ma quelle che ha indicato la normativa cioè tra 100 e 3.150 sono quelle definite nell'intervallo di frequenze dei rumori antropici cioè generati dall'attività umana ed è lì che vogliono fare la fotografia tutto quello che è prima e quello che è dopo non interessa perché bene o male nella stragrande maggioranza dei casi la nostra vita quotidiana i rumori che percepiamo o che produciamo cadono sempre all'interno di quell'intervallo di frequenza tanto per darvi un'idea il parlato di solito va da circa 1.500 1.000 Hz a meno che prendiamo Mario Biondi o Barry White che parlavano con toni molto più bassi per arrivare attorno a massimo esagerando 3.000 3.500 Hz ecco di solito copriamo forse un po' di più per certe voci acute ma comunque il grosso lo centriamo lì da quella grossa matrice ho poi fatto delle differenze sempre con un foglio di calcolo Excel tra quello che è il rumore fuori e quello che è il rumore dentro quel delta quello spazio che avete tra le due curve la curva ciano e la curva blu è quello purtroppo che ha fermato tra virgolette il portoncino ecco arriveremo alla fine a determinare numericamente quanto ha fermato questo portoncino quindi punto A, punto B e via via con tutti gli altri punti C, D, E ed F e poi pian pianino sono risalito a questo valore di isolamento che si chiama D dove vedete LE meno LEI non sta altro che per il livello misurato in esterno al portoncino meno il livello misurato in interno al portoncino fatto su tutte le frequenze mi ha dato modo di determinare l'andamento che vedete in queste immagini dove è chiaro si vede subito dove c'è scusate la maggior perdita la maggior perdita ce l'abbiamo a frequenza di 1000 Hz sia nel caso del punto A nel caso del punto B gli si avvicina un pochino ma siamo attorno lì tra 1000 e 1500 altri punti eccoli qui di nuovo siamo ancora attorno a 1000 e 1500 di nuovo 1000 e 1500 un po' prima addirittura lì 750-800 quindi è evidente che il problema lamentato dai clienti dai condomini in questo caso sia facilmente percepibile soprattutto sull'ambito del parlato noi parliamo attorno a 1000 Hz io parlo attorno a 1000 Hz quindi se passo da quel landrone davanti alla porta e dico a mio figlio vai giù piano dalle scale mi sentono perfettamente perché c'è un buco di isolamento in quel specifico ambito di frequenza in quella frequenza il valore di isolamento 25 25 è pochissimo 25 è un isolamento molto molto scadente questi portoncini sono certificati con valori molto molto più alti ed è giusto che sia così perché insomma un minimo dovrebbero darmi di difesa in questo caso questo portoncino ha buoni valori a basse frequenze un buco di isolamento nelle frequenze delle parlate e poi migliora ma non in maniera diciamo così sostanziale man mano che aumentano le frequenze questo per differenza come vi dico abbiamo costruito poi la curva di andamento di tutti quei punti le medie per frequenza mi hanno dato questa curva con questo determinato andamento con di fianco i valori numerici eccoli qui degli isolamenti come vedete a bassa frequenza siamo sotto i 30 a media frequenza siamo attorno ai 30 ma neanche molto perché a 1000 siamo a 23,6 qui superiamo i 30 abbiamo una buona prestazione a 2000 Hz ma il resto è abbastanza scadente quindi uno punto numero uno aveva ragione hanno ragione tra virgolette i proprietari degli appartamenti un portoncino di questo tipo non ci difende da quello che è il rumore sulle scale poiché non sia un rumore così insopportabile potremmo discutere giorni su questo fatto però ahimè ripeto l'impresario ha chiesto una determinata performance di questo elemento e ahimè una volta posato non gli è stata assolutamente rispettata confronto col certificato di laboratorio andiamo a vedere l'azienda che ha fornito questo elemento cosa aveva certificato in laboratorio per questo portoncino il certificato di laboratorio è questo e il certificato dava 40 decibel con performance decisamente buonissime e con una piccolo picco di isolamento verso il basso a frequenze molto molto basse che di solito difficilmente vengono toccate da parlato in realtà la sperimentazione che abbiamo fatto non ha dato lo stesso risultato ha dato una problematica molto più avanti sulle frequenze 1000 Hz 1500 e soprattutto un valore complessivo dell'indice di isolamento di che non è neanche lontanamente paragonabile a quello che è stato certificato di laboratorio ecco qui una seconda prova giusto per dire vabbè non è che una rondine faccia primavera proviamo un altro portoncino valutiamo se effettivamente è un problema una patologia diffusa o era disgraziato solamente quel portoncino purtroppo la risposta è non è che è stato così e ahimè ogni portoncino dava risultati più o meno equiparabili agli altri quindi purtroppo risultati decisamente insufficienti qui dovrebbero esserci quella dei due portoncini si vede poco quella ciano ma insomma si riesce abbastanza a vedere come vedete l'andamento è simile non ci sono grandi variazioni sul tema questo ci dà un altro risultato se tutti i portoncini hanno dato più o meno questa purtroppo scadente prestazione il problema potrebbe essere duplice il portoncino in se stesso ma anche le metodologie di posa del portoncino se la stessa persona ha posato tutti i portoncini due domande al posatore gliele farei e se possibile vorrei fare un'indagine superiore per capire quale potrebbe essere la tematica del problema ed ecco qua il tema abbiamo preso una stagia da un metro e ho cominciato a controllare il telaio metallico dove poi il portoncino va in chiusura e ahimè ho cominciato a vedere spifferi su spifferi se vedete luce qui non dovrebbe esserci dovrebbe chiudere perfettamente stessa cosa è qui stessa cosa è questa questa non dovrei vederla una fessura di due millimetri sul telaio è chiaro che fa passare rumore noi dobbiamo sigillare al punto tale che non possa passare rumore se facessimo un blau door test giusto per stimare lo stesso tipo di problema troveremo valori bassi perché abbiamo degli spifferi ecco lo spiffero del blau door per me è un segnale importante perché se passa aria passa rumore quindi qua ho valutato che ahimè a livello di posa purtroppo non è stata considerata attentamente e non sono stati fatti tutti gli accorgimenti necessari per fare in modo che il portoncino possa chiudere perfettamente in maniera ermetica anche dal punto di vista acustico quello che è la delimitazione della proprietà verso la parte chiamiamola comune un po' di risultati da questa interessante test allora innanzitutto che peso diamo alla capacità di isolamento del portoncino in considerazione di quanto è stato certificato e cioè 40 decibel come indice di isolamento purtroppo siamo tra 20 e 25 tra 500 e 2500 siamo attorno a 20 e 25 quindi il portoncino ahimè non ha fornito lontanamente la prestazione attesa i valori più bassi dove li troviamo li troviamo chiaramente non dove ci sono le cerniere che lì la chiusura è sicuramente buona li troviamo dal lato opposto dove c'è la maniglia spesso questi portoncini non vengono regolati e quindi magari gli appoggi si chiudono a mio avviso andrebbero regolati al punto tale che le guarnizioni siano schiacciate una contro l'altra perché in quella maniera si fanno tenuta stagna ma se ho un portoncino troppo facile da aprire da chiudere che lo possa aprire un bambino di tre anni beh bene per il bambino mica tanto per la sicurezza perché questo ti esce da casa neanche te ne accorgi ma sicuramente male per quanto riguarda il mondo dell'acustica un cattivo allineamento di quello che è il telaio con il portoncino stesso altri casi che esulano da questo ma che ho avuto dimostrazioni in cantiere basta veramente poco per vanificare una performance acustica non dobbiamo fare macroerrori bastano veramente errori banali e neanche pensabili da un posatore esperto se non è stato educato e sensibilizzato sul tema del rumore me ne dico un altro di un portoncino sempre in provincia di Verona stavolta ma sul lago di Garda pousato in stagione invernale la parte sottostante della chiusura fatta in materiale metallico e misurato d'estate beh d'estate è dilatato si è sollevato di un millimetro ci passava sotto un foglio alla porta quando era chiusa sigillato ha cambiato completamente performance quindi ripeto ci sono tanti temi di fisica che vanno poi a cadere in quella che è la prestazione acustica che dobbiamo richiedere ai vari elementi edilizi non è purtroppo così facile ci sono tante condizioni del contorno che devono essere analizzate valutate e risolte per dare la certezza che un elemento sia effettivamente acusticamente sufficiente guarnizioni quante anche quello è un numero che ci interessa più guarnizioni abbiamo che vanno in battuta a chiudere bene migliore sarà la prestazione lo è per i portoncini e lo è in maniera evidente anche per tutto quel mondo che riguarda il serramento trasparente io per dire chiedo sempre tre guarnizioni come minimo perché altrimenti non riusciamo ad avere quella chiusura stagna necessaria per andare a fare un buon comfort e rispettare quelle che sono le richieste dal punto di vista legislativo riportate nelle dpcm la penalità dei telai deve essere sempre valutata prima di procedere o meglio durante la posa è necessario che il posatore metta perfettamente in dima cioè perfettamente in bolla quelli che sono gli elementi che andranno a farmi la chiusura in questo caso spanciavano tanto per dire quindi erano attaccati sulla testa e sul piede ma nella parte centrale tendevano a spanciare vuoi per problematiche dilatative? potrebbe anche essere ma devono essere valutate prima non certamente adesso adesso ci sarà da mettere mano a tutti i portoncini smontare l'anta mettere mano al telaio sigillare ritoccare modificare variare in qualche maniera per poi rimettere sull'anta il portoncino e a me l'onere di andare a rifare un'altra volta lo stesso test per vedere se effettivamente la cosa è arrivata ad un livello decoroso o siamo ancora distanti morale e qua chiudo e poi lascio la parola a chi mi segue tempistica perfetta dai siamo stati barbini innanzitutto abbiamo avuto conferma che ahimè tra quanto riportato a progetto e di conseguenza mutuato da un certificato di laboratorio e quello che poi troviamo in realtà in opera ci possono essere differenze molto molto rilevanti qual è la variabile lì in mezzo la variabile è umana la variabile è la posa chi ha fatto come ha fatto e sarà educato e sensibile al punto giusto per doverlo fare la variante posa è preponderante nel mondo dell'acustica a fronte di un ottimo fantastico progetto indicato e dettagliato in ogni minimo particolare se manca l'anello della posa la catena si rompe è necessario che il posatore abbia sufficienti sensibilità e competenze in materia per seguire le indicazioni e sapere perfettamente quali sono i passi da seguire 2 ah scusate suggerimento per i progettisti quando fate delle rivalutazioni teoriche tenete sempre le immagini di garanzia abbastanza ampi proprio per cercare di colmare questa lacuna che ahimè dal laboratorio all'opera altrimenti non riusciremo mai a colmare né a prevedere a livello numerico punto numero 2 data per assodata la scelta di un serramento con caratteristiche idonee le variabili che concorrono alla prestazione isolante di un serramento sono molteplici e devono essere tutte considerate con estrema attenzione hanno notevole incidenza l'opera di posa la regolazione barra registrazione una volta posato va regolato registrato altrimenti si rischia di fare delle misure che non funzionano mai e non tornano mai i numeri e come vi dicevo prima il numero delle guarnizioni e la penalità dei telai questi sono gli elementi cardine per pensare di aver posato un elemento un serramento che può essere un portoncino in una maniera corretta dal punto di vista della performance acustica anche qua ultimo suggerimento fare particolare attenzione e soprattutto dare in mano questa posa a gente esperta a gente che ha già questa sensibilità perché se l'è fatta nel tempo e perché ha fatto quel passetto in più spesso troviamo operatori che fanno quello che gli è stato richiesto senza mai metterci qualcosa del loro io amo gli altri quelli che si interrogano su un problema e cercano di risolverlo quelli che cercano di prevenire la problematica ragionando su come la posso risolvere attraverso la mia fase operativa bene io ringrazio tutti per la cortesissima attenzione passo la parola al signor Frau e a voi invece un cortesi arrivederci bene buongiorno signori Raimondo Frau direttore tecnico Ormai in Italia cerco di illustrarvi brevemente quello che è il mondo Orman ma non potrò fare a meno di di utilizzare l'assist che in qualche modo l'ingegnere mi ha voluto fornire con questi con questi passaggi estremamente estremamente interessanti peraltro mi aiuterò con un paio di appunti tanto per evitare di dimenticare delle cose fondamentali bene Orman il gruppo Orman il gruppo Orman nasce nell'immediato dopoguerra più o meno si espande a macchia d'olio in Europa oggi Orman è il gruppo leader nel settore delle chiusure tecniche della componentistica tecnica a livello edile con 36 stabilimenti di produzione abbiamo un centinaio di hub di proprietà di distribuzione dei materiali in tutta Europa in Asia negli Stati Uniti e vi dicendo ma soprattutto soprattutto c'è una cosa da dire soprattutto abbiamo una filosofia che potrebbe quasi essere una filosofia di vita adesso voglio esagerare però è una filosofia operativa che è comune a tutto il gruppo che è comune a tutti noi che è quella della qualità che è quella del cercare di portare ciò che l'ingegnere prima diceva qualcosa in più quell'attimo di attenzione per per lo scopo finale per il nostro target che ovviamente è il cliente è l'utilizzatore più che il cliente io amo parlare di utilizzatore perché questo è ciò che interessa ed ecco che sotto questo aspetto ci siamo attrezzati siamo attrezzati a livello centrale quindi presso la nostra sede in Germania ma anche a livello locale quindi presso la nostra sede italiana alla Vista Trento con una sala riunioni una sala scusate una sala di istruzione una sala dove possiamo fare dei test istruire questa gente vi ricordo che Ormai d'Italia lavora in tutta Italia quindi abbiamo centri di assistenza rivenditori quindi siamo presenti corposamente dalla Sicilia alla Val d'Aosta al Friuli e via dicendo quindi noi raggruppiamo ahimè pandemia permettendolo in questo periodo raggruppiamo presso la nostra sede questi operatori che vengono istruiti periodicamente con dei veri e propri corsi in qualche modo da noi certificati e che servono proprio per raggiungere la performance che il prodotto di per sé dovrebbe deve alla fine offrire all'utente finale ma voglio addentrarmi un po' meglio nel concetto portoncino visto che il portone d'ingresso quello che stiamo analizzando oggi questo prodotto viene ideato e ingegnerizzato perché ogni stabilimento ha un proprio ufficio studi e di ingegnerizzazione presso due stabilimenti che sono siti grossomodo in Germania nella Germania del centro nord ma sono due stabilimenti uno dei quali ha iniziato a operare intorno agli anni 50 quindi stabilimenti con una data già ormai quasi antica nel settore industriale per cui hanno delle esperienze alle spalle notevoli ma sono anche proiettati alla produzione e al soddisfare quelli che sono i requisiti e le richieste di tutto il mondo delle edilizie a livello europeo che sapete è molto vasto ma anche molto differenziato dall'area mediterranea fino all'area nordica quindi ecco perché c'è un affinamento di questi materiali un affinamento di design un affinamento di qualità un affinamento di ingegnerizzazione che cerca di incontrare le esigenze del vario mercato entriamo ancora meglio in quello che è il concetto in questa mia breve presentazione del gruppo e ancora dovremo parlare del perché scegliere Orman sviluppo produzione design costante attenzione per quello che è il concetto della qualità e della durabilità pronuncerò altre volte questa parola che è un concetto interessante durabilità è un concetto che interessa molto l'utente finale e noi l'utente finale dobbiamo alla fine soddisfare la durabilità è quanto si tocca non nel primo momento non a portoncino in questo caso parliamo di portoncini non a portoncino nuovo ma è quanto si tocca tutti i giorni quotidianamente entrando ed uscendo dal proprio alloggio anche dieci anni dopo questa è la durabilità questa è la qualità nel tempo questo è ciò che noi dobbiamo assolutamente preservare e dobbiamo rincorrere come sapete sono concetti che vengono mutuati anche in altri settori Orman produce distribuisce installa manutenziona impianti di portoni industriali impianti di controllo accessi impianti che sono preposti al carico e scarico merci impianti che sono preposti al controllo e a difesa per quanto riguarda l'antincendio quindi è vastissimo il mondo della produzione Orman ma ritornando a questo settore più ristretto diciamo è proprio qui che noi riusciamo a interpretare uno dei posti degli ambiti in cui riusciamo a interpretare al meglio questa filosofia di collegamento con l'utilizzatore ancora l'utilizzatore europeo italiano europeo è estremamente sensibile in questi ultimi in questi ultimi anni in questi ultimi passaggi al concetto della sostenibilità ambientale bene Orman dal 2017 fin dal 2017 ha iniziato a rendere autonome sotto l'aspetto energetico autonome per quanto riguarda l'energia da idrocarburi e via dicendo per cui gli stabilimenti di produzione di Orman sono tutti collegati alla rete di energie rinnovabili al 100% per cui non solo una attenzione al prodotto che deve offrire delle prestazioni delle quali parleremo fra pochi minuti ma anche una assoluta attenzione a quello che è la produzione a quello che è il momento della realizzazione del prodotto proseguo 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 con un'altra indicazione il portoncino di ingresso beh il portoncino di ingresso oggi noi ne parliamo sotto l'aspetto dell'acustica che è sicuramente uno dei temi interessanti anche perché è pregno di lo abbiamo visto prima è pregno di contenuti di tipo fisico se mi posso permettere di dire anche scientifico in qualche modo questa è la realtà delle cose quindi è un valore aggiunto estremamente interessante ma il portoncino di ingresso noi dobbiamo ricordarci che nasce come difesa dall'esterno il primo requisito il prerequisito da anni 70 se vogliamo dare una collocazione temporale era del portoncino di ingresso blindato questa definizione è comune a tutti ed è ricorrente insomma bene Orman in questo settore ha iniziato fin da molti anni fa a dare dei risponsi ad allinearsi a quelle che sono le normative europee quindi poi anche italiane per quanto riguarda la difesa sotto l'aspetto sotto l'aspetto della antiafrazione il secondo requisito se vogliamo in ordine di non di importanza ma di tempo è quella della coimentazione la coimentazione nell'isolamento termico e quindi una cosa estremamente importante è diventata di assoluto di assoluto interesse verso la fine del secolo scorso sono ormai 20 22 anni che si fa una assoluta attenzione a quello che è l'isolamento acustico per quanto riguarda l'involucro casa e il portoncino d'ingresso quando si vuole parlare di un portoncino d'ingresso che dia direttamente su un giardino sul piazzale sull'ambito esterno della unifamiliare o della villa schiera ma anche perché no di un condominio che non abbia come succede praticamente dovunque che non abbia un giroscale isolato bene il concetto dell'isolamento termico è estremamente importante e qui iniziamo a entrare in quella che è l'argomentazione più affine al livello dell'isolamento acustico perché in qualche modo le tecnologie adottate per dare una performance termica di rilievo ormai con i propri prodotti con i propri portoncini arriva sull'elemento totale non sul pannello ma sull'elemento totale arriva fino a 0,8 come valore U che è un valore estremamente importante per quanto riguarda un portoncino d'ingresso un portone d'ingresso bene questa ricerca all'ingegnerizzazione la tecnologia applicata per risparmiare in qualche modo energia e quindi per avere un isolamento termico è abbastanza fine a quella che è l'ambiente dell'acustica è abbastanza fine poi vedremo anche le motivazioni più da vicino lo è perché nel corso degli anni per migliorare le prestazioni termiche ma anche in qualche modo di effrazione Orman ha iniziato a utilizzare telai interni e nodi in materiale sintetico come scopo principale ovviamente è quello di ridurre e di azzerare praticamente i punti termici o comunque di ridurli veramente al minimo ma questo fa sì anche che ci siano dei sistemi di accompiamento materiali di diverso tipo di diversa massa di diversa elasticità in modo che ci siano diversi passaggi fra un materiale e l'altro sono certo che questa cosa non sia stata studiata a favore dell'acustica ma tant'è verso l'acustica comunque si si muove in qualche modo oggi possiamo godere proseguo si è parlato prima di tre livelli di guarnizione bene anche i portoncini di serie diciamo gli entry level per quanto riguarda i nostri portoni hanno un sistema di chiusura a tre guarnizioni ma attenzione tre guarnizioni si vedono poi nella prossima tre guarnizioni di tipo pluricamera questa è una cosa fondamentale perché molto spesso in questo ambiente ma lo vediamo anche nel settore dei portoni da garage piuttosto che in altri che in altri i nostri settori vediamo che ci sono delle guarnizioni ma sono delle guarnizioni magari non pluricamera magari guarnizioni che si comprimono ma non non nel tempo nel senso che nel tempo a manovra costituita o a schiacciamento costituito tendono a perdere la loro elasticità e ad avere a offrire meno performance rispetto a quello che dovrebbe essere bene i nostri portoni fin dall'entry level ripeto hanno questa questa dotazione quindi tre livelli di guarnizione tutti pluricamera in materiale in materiale composito materiale composito composito significa che le guarnizioni almeno due delle guarnizioni principali hanno una parte che si comprime che è di materiale gommoso in epidm non ci è detto esattamente di che materiale ma è estremamente morbido e estremamente elastico è una parte più rigida che serve per l'inserimento nel profilo di alloggiamento cosa estremamente importante lo ribadisco ancora una volta perché perché l'utilizzo quindi la durabilità di questo portoncino d'ingresso nel tempo mi mi avvantaggia in qualche modo e mi dà la possibilità di avere un prodotto che nel tempo ripeto ha questo genere di performance ma se riesco a tornare indietro con la diapositiva ho però un altro aspetto da da sottolineare per ottenere costantemente questo posizionamento per ottenere un vantaggio dall'aver fornito al cliente all'utilizzatore tre guarnizioni a schiacciamento pluricamera e quant'altro abbiamo visto io ho una necessità ho bisogno di copiare in qualche modo l'andamento del telaio piuttosto che copiare e se regolare anche nel tempo regolare la posizione del mio battente della mia chiusura rispetto al telaio posizionato cosa estremamente interessante cosa estremamente difficile ma anche estremamente utile l'ingegnere ce l'ha già dimostrato ce l'ha dimostrato fisicamente con dei dati quindi bene l'unica via la via principale è quella dopo aver istruito i tecnici durante un corso dopo aver istruito e dato loro della documentazione che è a corredo di ogni portoncino dove si precisa perfettamente come agire con delle istruzioni estremamente dettagliate non amo citare qualcuno ma in questo caso devo proprio dirlo sono delle istruzioni modello Ikea perdonatemi la citazione bene uno dei passaggi torno sull'argomento è quello di avere delle cerniere a regolazione tridimensionale è estremamente importante ogni portoncino Orman è dotato di queste cerniere che hanno una regolazione tridimensionale significa che io posso muovere la mia anta in ogni modo in ogni in ogni in ogni direzione per far sì che possa essere perfettamente accoppiata al telaio ma non solo lo posso fare anche l'anno prossimo lo potrò fare anche fra cinque anni quando il ragazzino della vicina si sarà agganciato attaccato la maniglia della mia porta e avrà voluto giocare con la porta d'ingresso e quindi avrà in qualche modo magari inficiato tutto questo oppure quando la porta avrà subito più e più e migliaia di sbattimenti quindi dovrò intervenire potrò intervenire per dare una ulteriore regolazione alla mia porta e mantenere nel tempo anche fra qualche anno le performance che oggi magari strumentalmente sono assolutamente assolutamente soddisfacenti con questo tipo di progettazione come vedete materiali di varia densità accoppiamenti diversi pluri guarnizioni guarnizioni pluricamera cerniere regolabili e via dicendo i nostri portoni standard stiamo parlando di produzione di produzione non ad hoc ma i nostri portoni standard arrivano anche ad avere un valore di insonorizzazione pari a 43 decibel a seconda delle dimensioni a seconda delle dotazioni accessoristiche che è un valore interessante se è un valore diffuso sull'intero elemento del portone diffuso sull'intero elemento del portone però c'è un altro passaggio che non può essere sottaciuto ed è un passaggio che in qualche modo un altro tema che in qualche modo è stato mutuato anche questo dalla termica dall'isolamento termico ed è la soglia inferiore la soglia inferiore molto spesso è in qualche modo trascurata è un elemento trascurato di solito basta che ci sia una guarnizioncina flottante che chiude non lascia vedere non lascia passare gli spifferi in qualche modo e vabbè insomma a portoncino nuovo questo è giudicato sufficiente non è sufficiente anche questo nel tempo non è sufficiente perché quella guarnizione si consuma quella guarnizione è soggetta a polvere quella guarnizione la parte flottante di quella guarnizione non è una micromeccanica di pregio ma è qualcosa che lavora in qualche modo a caduta in qualche modo secondo la gravità quindi con lo sporco con l'accumularsi della polvere dopo non tanti anni dopo poco incomincia a non chiudere più perfettamente incomincia a non dare più questo tipo di performance i nostri prodotti sono tutti corredati di soglia inferiore è una soglia asportabile è una soglia intercambiabile è una soglia che nel tempo posso sostituire perché l'ho rovinata passandoci l'ho graffiata non mi piace più perché si è rovinata la parte in gomma che so io e quindi posso con una veloce operazione di manutenzione posso toglierla sostituirla rimetterla nuova e mantenere la mia performance acustica oltre che termica che è una delle cose abbiamo visto fondamentali bene questa soglia del valore di 20 mm quindi rientra in quelle che sono le normative antinciampo e via dicendo è uno dei passaggi fondamentali che da prove strumentali che mi ha fatto in laboratorio ci ha insegnato che questo è uno dei passaggi fondamentali abbiamo visto prima un test eseguito sui nodi eseguito non solo sulla parte centrale del pannello dove è facile ottenere dei risultati di qualche modo eclatanti ecco la soglia lo ribadisco è uno degli aspetti ribadisco ancora una volta anche la soglia è dotata di guarnizione pluricamera è dotata di tre guarnizioni il battente e la soglia in modo che possano accoppiarsi perfettamente su entrambi su tutti e quattro i lati su entrambe le dimensioni quindi ancora qui abbiamo un'altra sezione di un altro portoncino che è una versione più ibrida quindi le soluzioni con l'utilizzo di inox e alluminio sulle superfici in modo da rendere performante anche sotto l'aspetto sia estetico che duraturo ma anche questo è un altro aspetto che contribuisce all'abbattimento acustico delle porte come vedete ci sono inserimenti nel telaio di materiali sintetici la parte nera materiali sintetici che in alcuni casi qui ne vedete un'altra che in alcuni casi arrivano all'utilizzo delle fibre di carbonio fibre vetro carbonio quindi abbiamo utilizzo specifico e non stiamo parlando stiamo parlando di portoni di serie non stiamo parlando certo di prototipi da presentare a qualche istituto strano o in qualche generazione particolare stiamo parlando di prodotti di assoluta serie di assoluta distribuzione di massa insomma ecco ribadisco accoppiamenti ibridi fra materiali come le schiume poliretaniche l'alluminio l'acciaio e le fibre in carbonio tutto questo serve ovviamente ad avere un'acustica interessante un abbattimento acustico interessante ma lo ribadisco ancora una volta tutto questo serve soprattutto ad avere una stabilità del prodotto nel tempo ad avere una durabilità del prodotto nel tempo e quindi a garantire al nostro utilizzatore una performance che resta tale nel corso degli anni questa è una delle cose che di solito si tende a trascurare prima abbiamo visto un tema assolutamente interessante e sono le cose che dovrebbero in qualche modo stimolare il nostro mondo il mondo della progettazione anche il mondo dell'edilizia e cioè cosa accade dopo un po' cosa accade quando l'utilizzatore entra nello stabilimento e inizia a utilizzare il portone industriale o quando l'utilizzatore entra nel proprio appartamento e incomincia a utilizzare la finestra e incomincia a utilizzare il portocino d'ingresso cioè le performance in uso questo è assolutamente ed è la nuova frontiera è quanto viene in qualche modo stimolato dalle nuove normative europee è quanto viene in qualche modo percorso da quelli che sono i nuovi sistemi di progettazione cioè i materiali in uso questi prodotti ripeto che riusciamo oggi a mettere sul mercato seguono questa questa via ultimo concetto assolutamente interessante i portoncini come ogni altro prodotto vanno installati ovviamente vanno messi in opera l'opera edile lo sappiamo noi tutti l'opera edile non è un un laboratorio di prova non è una struttura messa lì e calibrata perfettamente con delle tolleranze decimillimetriche anzi l'opera edile usualmente ha una tolleranza che ha nulla a che fare con la meccanica bene e questo questo non vuole essere ovviamente un'accusa ai costruttori o al mondo dell'edilizia ci mancherebbe anzi così è perché non ci sono metodologie diverse e perché il mercato va in quella direzione quindi quando noi ci troviamo a dover installare un un portocino d'ingresso la fase di suggerimento iniziale la fase di approccio iniziale con col cliente con chi a quel punto ingegnerizza il tutto è assolutamente importante perché è in quella fase che noi riusciamo a proporre Orman propone questo riusciamo a proporre un controtelaio una sorta di dima che io fornisco al al cliente al mio o all'impresa o comunque insomma al cantiere mettiamola così una sorta di dima che però deve avere tutta una serie di caratteristiche in linea con le performance acustiche in linea con le performance termiche in linea con le performance di antie frazione oggi nella maggioranza dei casi e non voglio citare nessuno diciamo nella maggioranza dei casi salvo le solite eccezioni di assoluto rilievo nella maggioranza dei casi abbiamo dei controtelai o delle dime chiamiamoli come si vuole che vengono distribuiti sul mercato per portoni d'ingresso per portoncini blindati permettetemi le virgolette che sono dei sistemi di accoppiamento meccanicamente validissimi ma che tengono in considerazione solo la parte dell'effrazione solo la parte relativa all'antieffrazione mediamente e mediamente riusciamo a vedere dei angolari anche di robusta costruzione meccanica che vengono inglesiati nell'opera edile vengono collegati all'opera edile con sistemi più o meno robusti e tant'è nulla di più molto spesso poi nella realizzazione Orman Italia è partner di Casa Clima nella realizzazione del cappotto nella realizzazione del nodo termico ci si scontra contro questo contro questo aspetto perché quello diventa per esempio un ponte termico ma abbiamo detto un profilo in acciaio ci è stato detto prima che l'acciaio ha una conducibilità acustica interessante se posso esprimermi in questo modo beh diventa anche quello perché no può diventare un ponte non termico ma acustico oltre che termico quindi è assolutamente importante che venga studiato un telaio una dima un contro telaio così come quello che vedete qui in questa rappresentazione molto molto schematica un contro telaio realizzato in materiale non acciaioso non non come dire elastico ecco mettiamola così con una massa ridotta con una buona elasticità e con una buona performance sotto l'aspetto anche dell'isolamento termico questo è ciò che Orman propone quando ci troviamo a discutere con professionisti quando ci troviamo a discutere di queste realizzazioni con chi si occupa di progettazione come prima cosa noi ci poniamo ci preoccupiamo di proporre una dima un qualcosa un un nodo di collegamento un 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 anello di questa catena che unisce il portoncino che è stato testato in laboratorio che è stato ingegnerizzato che ha alle spalle la tecnologia Orman eccetera eccetera ripeto un anello di congiungimento fra questo prodotto e l'opera edile questa è una cosa fondamentale l'altro aspetto fondamentale e qui mi avvio a chiudere l'altro aspetto fondamentale di questo di questo telaio che è studiato appositamente è proprio quello di poter rendere la vita facile all'installatore la vita facile rendere la vita facile all'installatore significa in qualche modo far sì che l'installatore possa usare quel quid di cura in più di cui prima si parlava quell'attimo di attenzione in più nella regolazione nella sistemazione nella millimetrica nel millimetrico posizionamento del gruppo anta telaio contro telaio che è assolutamente indispensabile l'abbiamo visto prima è una cosa io ho utilizzato moltissimo i suggerimenti che l'ingegnere mi ha dato prima perché perché è così perché quello è il passaggio fondamentale perché il mondo del portoncino nella sua posa nella sua utilizzazione nelle sue performance vive di quei passaggi vive di queste cose bene Orman e chiudo definitivamente con questa con questa ultima slide Orman ovviamente offre anche delle certificazioni offerte e sottoscritte da enti terzi assolutamente indipendenti Orman ovviamente non ha solo il portoncino d'ingresso ma anche delle porte tecniche porte tecniche con le quali porte insonorizzanti tecniche con le quali raggiungiamo 70-75 decibel di abbattimento acustico capite quindi si tratta di porte ovviamente non destinate all'edilizia civile porte per sale tecniche e quant'altro ma l'esperienza che serve per produrre queste porte che sono prodotte poi negli stessi stabilimenti che vi ho presentato all'inizio è stata piano piano mutuata e trasferita sui portoncini d'ingresso questa è una cosa assolutamente importante è un po' come quando faccio un paragone un po' più ampio un po' più ardito perdonatelo ma un po' come quando si sente parlare di qualche soluzione di alta tecnologia nel mondo delle Formula 1 e poi ci si sente dire beh questo verrà applicato sulla grande serie Orman ha questa capacità visto la sua dimensione e la sua articolazione ha la capacità di applicare la tecnologia che viene utilizzata per produrre porte con abbattimento acustico da 75 decibel e di trasferire parte di questa tecnologia sul portoncino d'ingresso che io quotidianamente apro per uscire la mattina per poi rientrare la sera se non prima questo è un po' l'argomento con il quale volevo chiudere questo aspetto bene io spero di aver dato un escursus sufficiente non voglio entrare più nel merito delle cose vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti